Ok, partiamo con la live del runecast in questo momento e diamoci un attimo un'occhiata, eh? Guardate, guardate subito, la presentazione di questa, allora, io ho iniziato a vedere da qui, ok? Stavo giocando a una cosa che non posso dirvi, perché sono sotto embargo, e quindi stai giocando in Mortal Phoenix ma ti ascolto. Va bene, Rick Dido, mi raccomando, non perderti alle domande polemiche, voglio che metti in pausa e scrivi. È stato annunciato Assassin's Creed, poi era Assassin's Creed Rosso, Blue, Mobile e un'espansione di Valhalla, sì. Poi era arcobaleno. Io ho iniziato a vedere da questo momento, da questo momento ho iniziato a vedere la live di Ubisoft Forward e ho notato subito tre cose. Cioè, due cose principalmente che mi hanno triggerato tipo istantaneamente. La prima è che i conduttori non hanno l'ombra, sono sospesi nel vuoto, quindi hanno voluto fare questa cosa tipo streaming nel deserto ma si sono dimenticati di aggiungere l'ombra. Bravissimi. E la seconda cosa che mi ha triggerato enormemente è che subito qui siamo praticamente a 39 minuti di live, anche se prima è l'occhio dell'aquila. Oh, Monksis V, grazie mille. Ciao Simone, ciao, benvenuto. Ciao Simo, benvenuto, buonasera. Vi presento il nuovo mod del canale, il nostro Simone, che insieme al buon Diego Melgamot e al buon Darghi, i due mod storici, vanno ad affiancare un po' perché ho visto che c'è un po' di movimento ultimamente. E quindi abbiamo rinfo il titolo Non fate i cattivi perché guardate che Simone è uno cattivissimo, che vi sculaccia subito, istantaneamente. Appunto, dicevo, dopo aver iniziato con le persone che presentavano un po' imbarazzatine, un po' ingessatine, quindi non particolarmente intriganti come presentazione, hanno iniziato esordendo con questo streaming è in niente poco di meno che 11 differenti lingue, se non che sullo stesso stream c'è scritto guarda lo show in 17 lingue, decidetevi, sono 11, sono 17, non si sa. Bene, e già i dati partono così. Subito abbiamo messo le cose in chiaro, siamo Ubisoft, perfetto, tutti a posto. Grazie, possiamo finire lo stream. Ah, 17 più quelle dei segni, ecco, si, loro subito, perfetto. Non fate come Ubisoft, eh, che qua. Buonasera mozzarellaine di bufala, ciao carissimo, ciao. Ciao, ciao, benvenuto, benvenuto, benvenuta, io non mi ricordo mai, io dico benvenut. Perfetto, che così almeno tagliamo subito corto. Era solo un piccolo bug, può essere, dovevano essere 17 ma poi ne hanno fatti solo 11. Le altre 6 è un DLC a pagamento, le altre 6 lingue, tu cerchi di metterle su YouTube, c'è scritto DLC, ti rimanda al Season Pass, che puoi scaricarlo comodamente al modico prezzo di 19,99. Perfetto. Allora, diamo un attimo un'occhiata a quello che è stato detto, a quello che è stato mostrato, metterò a velocità doppia. No, va bene, lasciamo la, 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 il render lo lasciamo normale, ecco, daie, così almeno tagliamo un po' corto. Hanno, hanno fatto, ecco, sì, era con i linguaggi dei segni, però ovviamente potevate scriverlo magari nello stesso modo. Tramite se scrivi Infinity potrai vedere le memorie delle altre 6 lingue, va bene, molto bene. Ok, partono questi due signori che sono più ingessati di quelli di prima, dove celebrano il quindicesimo anniversario di Assassin's Creed, le rivedremo un po' lungo tutta la serata, quindi benvenuto, perfetto, mozzarella di bufala. Però hanno delle action figure fantastiche, kissere del gioco, esatto, tutto incentrato sullo shop. Perfetto, questo verrà appunto Raving Rabbits, sì, Sparks of Hope, chiaramente lo spin-off dei Raving Rabbits, che erano uno spin-off di Rayman, e si sono ricordati appunto che in Raving Rabbits esiste anche Rayman, che però sarà a pagamento. Ecco, anche qui le ombre che latitano, perfetto, queste cose che sono state fatte da un video editor di 6 anni, probabilmente, hanno incominciato ad elencare tutta la sequela. Ecco, Mario Raving Rabbits, penso sia stata la cosa più interessante della serata da questo punto di vista, almeno per il sottoscritto, nonostante io attendessi con estrema ansia e con un po' di apprensione anche, come si chiama, Skull & Bones, e come sapete benissimo appunto li aspettavo al varco io di Skull & Bones, e invece hanno mostrato, sono partiti con Mario Raving Rabbits, hanno fatto vedere questo gameplay, uscirà per Nintendo Switch, ovviamente, il giorno 20 ottobre, se non ricordo male, beh, certo che non può mettere le ombre, fa ben pensare, per la parte grafica dei giochi, infatti, quando ho visto l'impronta, la zampata di qualità, ho detto, qua, perfetto, ottimo, ci saranno solo first party di Ubisoft, quindi in questo showcase verrà mostrata tutta la roba di Ubisoft, e la gente di Ubisoft è senza ombra, bene, quindi benissimo. Allora, il gameplay, oh, buonasera Davide Magri, che sei iscritto al disagio, ciao Davide Magri, benvenuto a bordo, benvenuto. Ok, qui, oltre a Mario Raving Rabbits, che ve lo schippo, perché, ok, si tratta comunque della Skull & Watt, canzoncina fischiettante da dietro le quinte, sì, oggi il nostro Megamoth ha mangiato, ha mangiato gli peperoncini, gli abba nero ha mangiato, ha mangiato pesante, è arrabbiato, è arrabbiato con Ubisoft, meno male che abbiamo nel Game Pass, Immortals Fenyx Rising, che così ci fa tornare un po' il sorriso, ottimo prodotto, secondo me, derivativo, quanto volete, Zelda clone, bla bla bla, eccetera, eccetera, però secondo me è molto figo, sta digerendo il pranzo dei nozzi di mia cognata, benissimo. Ok, appunto, qui, dopo la lunga disamina, che è stato praticamente l'unico gameplay che è stato mostrato, oltre a Skull & Bones, che era già stato fatto vedere, insomma, dei titoli nuovi che tutti stavano aspettando con estrema ansia all'interno dello showcase, non c'è anima viva di gameplay, ma c'è stata la sagra del trailer in CGI, e queste cose mi indispettiscono moltissimo, anche e soprattutto perché quando lo fa Microsoft, ad esempio, nonostante ultimamente, ecco, Microsoft sta cercando di tagliare i ponti il più possibile con i trailer in CGI, ma veramente, sta abbandonando i trailer in CGI nei suoi showcase, proprio perché vuole mostrare più gameplay possibile, buonasera Nico Feider, ciao, benvenuto, comunque non ce l'ho con Ubisoft e Assassin's Creed, in realtà è un brand che adoro, ma devo sfogare del sarcasmo represso, posso capire, comunque anche io Assassin's Creed mi piace moltissimo, però, però vabbè, lo vediamo dopo. Allora, ecco qui è finito ovviamente il gameplay di Mario Raving Rabbids, partiamo subito poi con le note super dolenti, si sono ricordati, ecco, Staring Rayman in New DLC Adventure with Rabbids, quindi è come se mettessero, non so, un gioco tutto incentrato su Luigi, faccio per dire, Luigi's Mansion, però Mario, in realtà, puoi giocarlo ma solo se paghi, beh, ottimo, molto bene, grazie a un Diego Megamot per i 3-bit, sarcasmo, buonasera Saboid, ciao, ciao, benvenuto, scappo veloce a casa, torno a seguire la live tra pochissimo, ciao, va benissimo, va benissimo, a fra poco, a fra poco, ecco, a voi sono piaciuti anche gli ultimi capitoli di Assassin's Creed, poi ne parliamo, quanti Assassin's Creed facciamo? Ubisoft, sì, perfetto, The Darkness si è abbonato, grazie mille, The Darkness 1989, benvenuto nel club degli abbonati, ovviamente ti ricordo, tutti gli abbonati possono entrare anche sul canale Discord, loggare con le proprie credenziali di Twitch e accedere alla chat degli abbonati, dove hanno un filo diretto con il sottoscritto con cui parlare, Ah, sei Pasquale su YouTube, ciao Pasquale, ciao, benvenuto allora, benvenuto, ciao Pasquale, è che hai cambiato un po' di nickname, ti ho perso un po' di vista, però ricordo il tuo avatar. Il mio unico problema è che Valhalla è che è lungo, e anche lì poi possiamo entrare nella disamina del quante ore servono veramente per finire un gioco del genere, e quante ore sarebbero servite se il gioco fosse stato calibrato su un'esperienza non da svenimento, che ultimamente sembra essere un po' il leitmotif, di Ubisoft in generale, di Ubisoft ma di tante altre aziende, non è che adesso Ubisoft è il male e tutto il resto è una grande isola felice, cioè il mondo non è popolato da unicorni e non si cammina sugli arcobaleni in generale, nell'industria in questo momento. Vedrete poi anche martedì il mio video su YouTube, dove me la prendo con gli Xbox Game Studios in persona, quindi salutiamo Matteo Bottino al secolo Matt Booty. Valhalla io feci 47, poche rispetto agli altri Assassin's Creed, poche ore sì. Io Valhalla devo completare il DLC di Parigi, mi aspetta il DLC Ragnarok, buona fortuna. Ecco qui siamo su Skull & Bones, viene mostrato appunto l'ennesimo trailer in CGI, perché non ne avevamo visti abbastanza, un'altra piratessa con delle scarpe orrende, sembravano quei gelati che... avete presente i twister che c'erano anni fa, che erano quelli colorati, arzigogolati, ho detto ha dei twister ai piedi la prima volta che ho visto questa live. Qui viene mostrato un trailer in CGI, un gameplay trailer, dove viene mostrata una sequenza, diciamo, di combattimento, di battaglia fra navi, chiaramente al profumo di Assassin's Creed Black Flag. Queste sono tutte cutscene dove viene disseppellito, disseppolto, riesumato, ritrovato un forziere, con del valsente all'interno. E sì, anche a me mettono parecchie... Sì, ho messo velocità doppia, Diego, sì, perché sono due ore di trailer, altrimenti qui presentano tutti i content creator. Tra l'altro, ecco, vorrei farvi presente una cosa. Qui rispondo anche a una domanda che mi viene fatta molto spesso. Prenderò l'occasione di Skull & Bones, sacrificherò il Skull & Bones. Ecco, chi conosce questa persona? e anche, non questo, ma questo, sono due content creator molto famosi di Sea of Thieves. Chi, come me, ha visto, seguito, diciamo, la scena di Sea of Thieves sin dall'inizio, è che in realtà Sea of Thieves non sta affrontando un periodo estremamente eroseo, nonostante la nuova season, nonostante tutte cose, perché c'è un po' di carenza, appunto, di attività. Sì, è stato inserito questo, quell'altro, però, insomma, il gioco comincia a avere anche un po' la sua età, c'è bisogno di svecchiamento, ci sarebbe bisogno di nuove meccaniche, alcune cose nuove, però, vabbè, è comunque seguito. A quanto pare sta avvenendo una migrazione di creator, che erano partner di Rare, e ora sono partner di Skull & Bones, quindi di Ubisoft. Io non so che cosa stia succedendo nello specifico, ma dubito, dubito tantissimo, dubito veramente tantissimo. Comunque, questi content creator, appunto, sono partner di Skull & Bones, fanno parte dell'insider program già da tempo, hanno visto, fatto, eccetera, eccetera, queste cose mi puzzano di marchette in una maniera siderale, quindi hanno preso dei content creator diciamo non proprio di puntissima, però abbastanza rinomati da questo punto di vista, moltissimi di quelli che sono i veri content creator di Sea of Thieves non ci sono, e quando ho visto quelli grossi grossi di Sea of Thieves che mancavano un po', ho mangiato la foglia, ho detto, ah, ecco perché. Ma da quello che si sa non è neanche paragonabile con Sea of Thieves, ecco, poi lo vedremo, perché alcuni dettagli, ecco, questo green screen dove la tizia rimane ferma, a me è venuta la labirintite, ecco, potrete equipaggiare nuove strutture, nuove armi all'interno della vostra imbarcazione, ma è ovviamente propedeutico al combattimento navale, che è l'unica cosa che contraddistingue questo gioco da un gestionale qualsiasi, è il combattimento navale, perché sì, dovete sapere che andando all'arrembaggio di altre navi, quindi abbordandole fisicamente, parte una cutscene, quando arrivate su un'isola parte una cutscene, quando andate per l'isola in cerca di risorse parte una cutscene, quindi è il gioco delle cutscene, e insieme a questo showcase, che è lo showcase della CGI, siamo a posto, ecco, qui vengono fatte vedere le personalizzazioni, che banalmente sono delle skin di oggetti che rendono più o meno efficiente il vostro comparto offensivo o difensivo della nave, il cambio delle polene, è finita la messa, stop, perché poi approdando ecco, dei forti, ovviamente, c'è la possibilità di attraccare sulle isole e depredare delle risorse, tutto in CGI, un'altra volta, eccola là, 8 novembre, il preordere è disponibile, io vi invito caldamente a non preordinare nulla di tutto questo, ecco, Scalemboss che doveva essere una cosa roboante, vista in pompa magna, il trailer sostanzialmente la sezione di Scalemboss è durata ben 5 minuti signori, 5 minuti 5, attenzione, vogliono raschiare il barile il più possibile, è evidente, sì, non hanno condiviso praticamente una cippa di tutto e per quanto riguarda Scalemboss non è stato condiviso assolutamente nulla, oltre al cambio estetico di due cannoni in croce di quattro polene, mamma mia, comunque l'interfaccia di gioco non si è vista manco morto puzzo un posto gioco Pasquale si è visto in un gameplay trailer che era stato condiviso diversi mesi fa e era un alfa non era ancora la versione definitiva c'era scritto che non fosse la versione definitiva era Black Flag praticamente con un leggero ritocco alla user interface nulla di particolarmente scoppiettante insomma ciao comandi 44 EF ciao ciao benvenuto a bordo della live ciao benvenuto love is a murder ciao run buona domenica ciao a tutti buona domenica anche a te love is a murder e benvenuto abbiamo appunto ben 5 minuti di Scalemboss pensate un po' che fatica che hanno fatto quelli di Ubisoft per confezionare 5 minuti 5 di gameplay di uno dei loro titoli di punta perché appunto con gli Assassin's Creed a parte appunto il gioco mobile che è di prossima uscita Assassin's Creed Jade se non mi ricordo male perché insomma poi hanno messo tutti dei nomi fantastici Jade Red la miseria mancavano davvero boh stavano facendo la tabella dei colori o delle pietre probabilmente ce ne avevano sotto mano uno hanno detto scegliamo a caso Scalembons dovrebbe essere un titolo di punta perché vi ricordo che è tipo da 6 anni 7 anni in produzione è stato ributtato 3 volte non ributtato tipo butta la pasta ma ributtato fatto ripartire riavviato il progetto per ben 3 volte se non ricordo male e soffre moltissimo della concorrenza di Sea of Thieves che a oggi e da quanto ho visto anche in questo gameplay trailer si conferma come sovrano assoluto dei mari non perché sia uno dei miei giochi preferiti ma anzi io aspettavo come sapete per me la concorrenza è fondamentale ci sono ci sono ottime ottime notizie sempre se c'è una concorrenza agguerrita perché invoglia i produttori di videogiochi a fare il meglio possibile mentre in realtà questa volta non è andata il meglio possibile perché chiaramente ci voleva ci voleva per forza un bel flop che così almeno intanto Sea of Thieves naviga tranquillo verso l'orizzonte benché non goda appunto di recentissimi update folgoranti però diciamoci la verità è comunque ancora il gioco dei pirati a tutti gli effetti e questa scorsa su Skull & Bones non sembra impensierire minimamente quelli di Rare che ci impiegheranno altri tre mesi per far uscire una major content patch perché tanto di rivalità qui non ce n'è lasceranno uscire Skull & Bones la gente vedrà quello un po' che contiene e di lì a un mesetto poi tireranno le somme eh adesso riprendo la chat ragazzi perché mi avete mi avete scritto di tutto tra l'altro Skull & Bones esce praticamente anche sui tostapani un po' come Doom a quanto pare perché no però non esce sulle console di vecchia generazione quindi la come dire il pensiero vola alle console old gen quindi ci sono solo le console current gen ecco una cosa che io ringrazio tutta la mia community è che non chiama le console di nuova generazione come next gen grazie perché davvero non ne posso più non ne posso più mi consigli una console next gen quando usciranno te le consiglio allora Assassin's Creed Power Rangers Eric Dido si può essere mancava solo quello rosso giallo e blu rosa nero e più i colori Power Ranger un abbraccio a chi si ricorda questa questa canzone Elbows 11 si è unito il disagio ciao Elbows benvenuto vabbè diciamo che hanno fatto giusto per fare qualcosa visto che il sistema di Black Flag è piaciuto sì Arcade Stay grazie mille per il 100 bit grazie mille carissimo grazie grazie super gentile buonasera capitano scusa ma devo lasciarvi recupero il resto della live casomai non vi rivedessi buon pomeriggio buonasera e buonanotte a tutta la chat perfetto buongiollo come diceva giurato ciao grazie per essere passato grazie per i bit ovviamente ma Sea of Thieves lo aggiornano meno perché stanno lavorando su Everwild l'hai gufata Diego l'hai gufata non si sa speriamo di no comunque comunque questo è quello che riguarda Scala and Bones quindi nulla di particolarmente preoccupante ma la domanda la chat è ma c'è ancora tutto sto bisogno di Assassin's Creed io dal 2 non ho mai visto non ho mai più visto qualità parleremo di Assassin's Creed siamo qua apposta perché vorrei anch'io tirare le mie conclusioni ecco sta cosa miseria allora siamo su Riders Republic ok quanti di voi sinceramente hanno giocato a Riders Republic barra quanti vorrebbero giocarlo Riders Republic io credo che ci sia il vuoto cosmico di persone che vogliono giocare a Riders Republic che è la versione BMX di Steep sostanzialmente una tristezza in vereconda era stato programmato progettato come l'ennesimo turbo gioco multiplayer che farà strappare le mutande di dosso a tutti i giocatori del pianeta così come dissero per Roller Champions e in realtà è un gioco sostanzialmente morto hanno perso un sacco di soldi per realizzarlo probabilmente e ora si trovano con probabilmente tonnellate di altri contenuti già fatti dall'oceano di developer che lavorano in Ubisoft e siamo alla season 4 ah che bello una season di un gioco che non gioca nessuno benissimo molto utile puoi giocarlo gratis c'è scritto attenzione perché qua ovviamente qui scatta la trappola lagga o sono io io non ho perso frame quindi io non sto laggando io dovrei essere a posto non fatemi venire i coccoli che ho l'ansia io a me il brand in generale piace stanno un po' spremendo il brand oltre il limite io no dice Savoid in merito proprio Assassin's Creed ok la beta e niente lo trovo inutile mi spiace per chi lo ha sviluppato perché poi anche lì c'è sempre il sempiterno discorso del è colpa dei developer non è colpa dei developer perché i developer sviluppano il loro gioco poi viene sottoposto a un team di valutazione QA QC chiamatelo come caspita vi pare e loro danno l'ok in base alle direttive aziendali perché tutti questi giochi vengono valutati da levette che vogliono il profitto e quindi cos'hanno fatto in merito proprio al profitto grazie per il collegamento così volante devono pubblicizzare sto cavolo di Ubisoft Plus ok e guarda un po' guarda un po' season 4 freestyle in available il 14 settembre c'è scritto sotto asterisco scritto in piccolo poi sotto che sostanzialmente quando ti fanno firmare le clausole dell'assicurazione poi ti portano via la casa BMX add-on early access per coloro che hanno il pass year one quello originale perfetto play free now ma play free now indovina un po' i dettagli sono sotto poi se andate a vedere sotto vi manda in un giro dopo se abbiamo tempo lo vediamo the details are in the description quindi già hai capito siamo presenti ora a un altro dei brand che è stato prodotto spinto fatto rotolare giù per le scale in qualsiasi caso possibile per cercare di portarlo più avanti possibile sfruttando l'inerzia siamo su the division su the division 2 che nonostante abbia ecco questa signora è di un'empatia fenomenale non so se avete presente sembrava sembrava uscita da Tommy Cart non so se avete presente ecco magari questo passaggio ve lo metto in uno per così vedete la gestualità fluente di questa signorina intanto intanto guardo la chat Roller Champions non ho fatto nemmeno in tempo a giocarlo che era già morto Diego ok ma piace a tanti anche a me in passato un minimo di difficoltà innovazione dei nuovi capitoli quello sul pass è una palla stellare lunghissimo e piattissimo sono uno dei pochi che ama gli Assassin's Creed in versione RPG non sono mai riuscito a giocare ai vecchi perché erano troppo legnosi lol no no non è vera questa cosa ce ne sono moltissimi che conosco che sono così sfatiamo il mito che Assassin's Creed sia la saga di Ezio e basta ce ne sono tantissimi che preferiscono altre tipologie ed è esattamente per questo motivo che Ubisoft adesso sta producendo tutto tutto qualsiasi cosa la butta lì su mobile uno più così uno più cosò uno con il setting da una parte uno la modalità roguelike inserita in Valhalla uno il DLC e uno ovunque stanno cercando di andare a macchia d'olio per raccattare più grano possibile China India Russia si erano gli Assassin's Creed Chronicles quelli che ho particolarmente gradito perché quei platformer rogvania metroidvania strani a me erano piaciuti quelli ma uno mi sembra India forse era il migliore se non ricordo male dei tre comunque li ho tutti e tre e mi erano piaciuti mi erano piaciuti non erano la solita roba di Assassin's Creed quindi chi li ha giocati lei sembra Bayonetta scriva è vero sembra un po' Bayonetta se uno non ha il PC lo gioca su Stadia con Ubisoft Plus senza pagare nulla e Ubisoft neanche a Stadia con il Multi Access e lo sto facendo ok giusto in parte ma non tutti gli RPG devono essere dei copolavori ok a volte diverte purtroppo è un gioco molto semplificato sono d'accordo non c'è bisogno sempre di complicare tutto più possibile sennò diventa una cosa inguardabile barra ingestibile a me Assassin's Creed piaceva moltissimo solo che non mi viene voglia di provare i nuovi perché alla lunga la saga mi ha annoiato preferirei qualcosa di nuovo tutto qua Carl Everance c'entra al punto perché effettivamente qui stiamo macinando su roba vecchia vecchia Mario e Rabbids Sparks of Hope sì è qualcosa di nuovo ma il brand è fotonicamente vecchio e le meccaniche cominciano a cigolare un pochino andrebbe messo un pochino di Svitol salutiamo Svitol ovviamente poi hanno mostrato Scalembons che è un titolo iniziato a essere progettato sette anni fa otto anni fa e vede oggi la luce come la brutta copia una copia moderna di Black Flag una sorta di copia moderna di Black Flag quindi non benissimo Riders Republic è un titolo di due anni fa che non sta vendendo per nulla così come Roller Champions The Division è un titolo che è nato nel 2000 chi se lo ricorda diversi anni fa non tantissimi ma comunque diversi anni fa che soffre tantissimo e ce ne sono molti altri tra cui anche Assassin's Creed ovviamente ma non solo vedremo anche dopo Ubisoft insegue sempre non rischia e non propone niente di nuovo in tutti i loro giochi rimandano alla stessa sensazione di no e dopo poche ore sai cosa Saboid mi è capitato di fare un collegamento mentale strano quando parlando dell'innovazione stessero cercando di fare qualcosa di nuovo come ad esempio un Battle Royale e quel Battle Royale di Ubisoft che vide a malapena la luce e poi venne ucciso impunemente quindi secondo me stanno cercando di arrivare a più utenza possibile e sperano di cadere nel paniere più largo possibile tant'è che adesso stanno andando sul mobile senza pietà hanno aperto agli NFT in tempi non sospetti quindi stanno cercando un po' di grattare la cassa proprio di dateci tutti i soldi che avete ogni centesimo è bono dicevano questa è un po' la mia sensazione parlando di novità che ne pensi Hogwarts Legacy che esce a febbraio parleremo anche di Hogwarts Legacy vai tranquillo 90 cavallo 90 se è unito al disagio ciao cavallo pt cloppete buonasera buonasera al nostro amico che ci raggiunge grazie per essere in live con noi intanto Assassin's Creed stanno romanzi fumetti e altro sì 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 stanno cercando e i live action stanno ecco sembra baionetta guardate guardate sembrano quelle hostess quelle le uscite di emergenza sono qui 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 perfetto guardatela guardate sono rimasto affascinato io credevo che a un certo punto poi si aprisse la faccia e c'era sotto le rotelle che giravano tipo steampunk bellissimo il carisma dei presentatori di Ubisoft anche questa volta ce lo siamo beccati al 100% bellissimo mi spiace per coloro che non vedono le immagini perché viene trasmesso in podcast ma comunque andate a riprendervi questa live per vedere degli automi che guidano uno showcase buonasera amici del metallo buonasera cavallo cavallo metallo perfetto mi dispiace dirlo ma Ubisoft non credo si risolleverà da questa situazione l'ultima cosa che può fare è sperare di essere acquistata acquisita sì e cambiare totalmente approccio alla produzione allo sviluppo questo è un ragionamento che mi stavo tenendo per la fine ma il buon Simone mi ha spoilerato il tutto vi instillo questo seme ok hanno hanno comprati Tencent ha comprato delle quote di Ubisoft ok parte delle quote Ubisoft le quote pubbliche per non per puntare alla scalata ma molto probabilmente per aumentare ancora di più la loro influenza e fare soldi sostanzialmente Ubisoft adesso sta facendo questa cosa per alzare i margini di profitto più possibile fregandosene abbondantemente della qualità che è la stessa identica cosa che sta facendo Blizzard cazzarola proprio perché quando entrano in gioco multinazionali acquisizioni profitti eccetera eccetera ci si vuole vendere il meglio possibile signori miei e quindi penso sia così un approccio estremamente aggressivo da un punto di vista di marketing e tanto ai giocatori che ce frega tanto comprano comunque loro vedono DLC season pass di Assassin's Creed compra è in sconto a solo 19,90 anziché 800 euro poi magari costa 5 euro produrlo però vabbè intanto riprendo questa era la mia vi instillo questo seme di discordia e se Ubisoft stesse spandendosi a macchia d'olio per ingolosire eventuali acquirenti aumentando il profitto dichiarato annuale e quindi prendersi un bel saccone di soldi e fuggire con la paghetta chi lo sa hai ragione se Far Cry ti riempie il tempo senza innovare chissà cosa un Assassin's Creed di oggi alle quest di un GTA di 15 anni fa vai al posto A o CDB porta qualcosa a C le classiche fetch quest né più né meno secondo me con quella storia si potrebbe fare molto meglio ricordo i Dark Souls giocando su una storia fumosa fatta ad arte stanno facendo i big money da dieci anni sì lì c'è anche un cult perché i Dark Souls inizialmente erano un culto proprio erano una nicchia strettissima di hardcore gamer che apprezzava la natura molto punitiva del genere in realtà quindi da lì poi è partita una sorta di leggenda che ha aiutato moltissimo From Software a farsi dei proseliti perché se giochi a Dark Souls finisci Dark Souls no damage tutte queste cose queste challenge allucinanti sei un figo e quindi un po' è stato mitizzato da questo punto di vista Dark Souls ma comunque gli vanno riconosciuti dei meriti innegabili da un punto di vista anche di sviluppo di meccaniche di gameplay di conduzione artistica comparto audio comparto più narrativo dal punto di vista della lore estremamente ermetica anche un po' esoterico che devi andare a cercare le cose in giro non ti dice niente bello da quel punto di vista assolutamente sì tutto il successo di Dark Souls però è un insieme di fattori nei quali rientra anche molto la community immagina dare un brand come Assassin's Creed ai giapponesi potrebbe essere un'ottima idea se metti in un riquadro sotto al telegiornale andrebbe bene per i sordomuti esatto per i non udenti abbiamo l'indicazione alla pagina 777 buonasera Negan che ci raggiunge ciao carissimo Ubisoft è riuscito a storpiare due giochi come i The Division ho detto tutto eh sì se arriva a Ubisoft Plus su console fortunatamente uno può risparmiare in day one con season pass di tutto il catalogo sì perché alla fine uno si fa un abbonamento il problema è che i giochi sono anche strutturati per essere estremamente lunghi quindi se uno non ha tutto il tempo libero del mondo un mese di abbonamento di Ubisoft Plus ci finisci un gioco forse esatto io ho apprezzato il non essere guidato dai Souls bravo Mastro Minchius ah ciao 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 Alessio sono tutte leggende infatti i Souls sono stati per anni di nicchia l'ultimo uscito ha fatto successo perché è più accessibile sì questo è un dato di fatto poi anche il discorso di Martin che ha scritto il trono di spade hanno cavalcato molto il trend giusto così è marketing ci mancherebbe riprendiamo appunto un attimo mi ricordo la quest di Priscilla mezzo sangue se l'avrei vista Sabacco non l'avrei mai fatta quindi a volte la semplicità è meglio può essere può essere alcune cose sì sono veramente per pochi per i cultori riprendiamo appunto perché qui dopo The Division hanno fatto vedere che ci hanno inserito poi sta Fantomatica Season qui adesso il futuro è brillante per The Division 2 e adesso eccoci Daie adesso fa vedere Heartland ne avevamo già parlato fanno vedere veramente quattro cose in croce chiedono la registrazione per gli upcoming test io sta roba quando la gente sbandiera il test significa che sono disperati secondo me cioè perché sanno che alla gente non gliene fregherà una mazza che non vanno ad informarsi e quindi hanno paura di non avere carne da cannone e devono quindi pagarsi dei beta tester e adesso guardo se riesco a metterlo ad una risoluzione alta che sia compiacente anche al livello di streaming della linea perché effettivamente io adesso ve lo sto facendo vedere poi c'è la compressione di Twitch e tutto quel cavolo che vi pare però volevo farvi vedere questo gioco che è lungi dall'essere croccante anche solo visivamente cioè io davvero non ci ho visto degli improvement tali da dire oh però bello interessante cioè qui sembra Far Cry 5 ragazzi cioè sembra girare sul motore di Far Cry 5 io non so se effettivamente è il motore di Far Cry 5 siamo in 1080 quindi in full hd e a me sinceramente lascia un po' così cioè questo è il titolo di punta cioè lascia stare che sia preso lo streaming e tutto quel cavolo che ti pare ma cioè obiettivamente è proprio è proprio un po' bruttino non so cioè che poi la grafica non sia tutto eccetera eccetera ma cos'è sta roba visto rivisto stravisto proprio manca di personalità manca di freschezza proprio vieni anche tu ai test chiusi avanti entrate a miliardi che ci serve gente da mettere davanti a un pc e vedere quante bug report ci arrivano in un giorno cioè adesso se io fossi l'azienda ok è bello dire ragioniamo un attimo su questo discorso ok franchise di The Division perfetto che è sto Heartland è il nuovo capitolo di The Division che sarà un free to play mmo bla 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 che sarà pieno zeppo di microtransazioni molto probabilmente visto che Ubisoft non ha mai fatto mistero della sua ferocia e voracità in termini di portafogli altrui e quindi molto probabilmente quando arriverà ci saranno i vari le varie shortcut che se shoppi livelli prima avrai i pacchetti con le armi bonus eccetera eccetera riprendo la chat mister potato salve salvino a tutti anche se in ritardo non è mai nessuno in ritardo sulla live del capitano ruolker buonasera a te mister potato grazie ovviamente per essere qui problema che il futuro non sembra brillare per Ubisoft anche Ubisoft non se la passa in buone acque non da un punto di vista economico finanziario anche se ha abbassato ma ci sono anche casini interni per niente brillante a parte Mario plus Rabbids ieri sera non c'è stato nessuno spunto interessante stiamo facendo giusto un recap quicky quicky per queste cose il 2 lo abbandonano il 2 sostanzialmente non so quanto tirerà avanti io personalmente solo io trovo che la grafica sia importantissima nel 2022 no Carl Everans no allora facciamo un ragionamento buonasera Lucensis ciao carissimo benvenuto sulla live allora facciamo un ragionamento estemporaneo ok deve esserci buonasera Squirrel Destroyer che bel nick provato 15 minuti non mi ha entusiasmato perfetto stiamo parlando di 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 ah Moonbreaker ok qui parliamo un attimo di grafica e parliamo di gameplay allora quando due elementi principali del gioco ok dividiamolo in tre facciamo finta che sia un'avventura single player ok per me gli elementi all'interno di un'avventura single player sono la narrativa quindi la storia perché se la storia fa schifo il gioco passi i primi 10 minuti 20 minuti ad annoiarti e spegni quindi se la storia non ha grip può esserci anche la grafica spaccamascella possono esserci delle meccaniche innovative che se la storia è una porcheria non la giochi fine poi la seconda è chiaramente il gameplay nel senso che il gioco deve essere giocabile godibile con delle meccaniche interessanti e la terza è comparto audiografica quindi il comparto tecnico in un gioco multiplayer dove la componente narrativa c'è ma sostanzialmente il valore aggiunto è il multiplayer che va un po' a sostituire la narrativa con il senso del facciamo squadra ti restano due elementi se già uno di questi come quello grafico è lacunoso è deficitario non dico che tutti debbano avere la grafica dei Santa Monica Studios o chi per esso ma deve esserci un certo grado di piacevolezza nel vedere questo videogioco e nell'ascoltare le soundtrack deve essere gradevole se uno guarda 5 minuti di gameplay e sembra uscito da Far Cry 5 la narrativa e il gameplay devono essere da 10 altrimenti non ha appeal condividete con me questa cosa perché in effetti a me sembra ecco condivido pareva Far Cry 5 comunque sì questo è il mio eh vediamo Heartland potrebbe essere una sorpresa o almeno ci spero onestamente per quel che si sa potrebbe essere interessante parla delle meccaniche ah ok io sogno sempre ad occhi aperti in teoria dovrebbe essere sulla falsariga di Valhalla ah sì ok perfetto il free to play già presente tipo Battle Royale svedese adesso non ricordo il nome ah Valheim ah ok 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 perfetto ok vedremo intanto pulisco il bagno perfetto la grafica in quel caso è indispensabile deve esserci croccantezza condivido in pieno ok perfetto ok siamo siamo lì quindi arrivati a questo punto se la grafica già latita insomma il resto parte già zoppo poi magari la gamba che non è zoppa è una gamba da Usain Bolt e magari vincerebbe comunque anche con una gamba sola ma se così non fosse sarebbero dolori e quindi abbiamo visto no gli ultimi titoli che stanno uscendo le ultime produzioni insomma non è che mi non mi sembrino delle cose se le premesse sono le ombre ecco qua game engine footage cioè allora pronti ok allora guardate i render delle macchine ok questo è game engine ok questa zona se voi estrapolate questa zona la fate ne fate un riquadro sembra resident evil 2 ok magari esagero esagero sono troppo cattivo cioè guardate che cioè sembra in cell shading scusatemi no non non disprezzo il cell shading ma se mi mi spari sì ho capito ma cioè è resurgence ho capito ma cioè miseria ce li mettiamo due robine cioè guarda 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 come sono fatte le persone i personaggi ok hanno i riflessi sulla giacca di pelle ok che è un dettaglio lodevole ma cavolo ma due due schifosissime ombre fatte come si deve le vogliamo mettere o deve sembrare tutto essere appiccicato coi trasferelli ci ho capito che fai un gioco mobile ma non è che la gente ci gioca i giochi mobile cioè allora sì aspetta stavo dicendo una cazzata scusate non è che la gente gioca i giochi mobile senza fare attenzione ad eventuali dettagli cioè vedete come sono curate queste cose è il resto che fa schifo è il contorno che fa schifo cioè è bella la sequenza non sembra neanche un gioco eccessivamente brutto da vedere per essere un gioco mobile no? che non è che può girare sull'iPhone 14 per forza e basta ok? deve essere anche compatibile su altri vari elementi ma se metti le lucine metti i rimbalzi dei proiettili metti il flare cavoli l'ambiente intorno curalo un attimino no? cioè un minimo un minimo in Game Engine però tutto il resto fa schifo spero sia solo l'Alpha così ma speriamo davvero perché se no amico mio cioè te voglio bene ma allora riprendo stavo per scrivere un papello di commento faccio prima scrivere che sono d'accordo con te no adesso Negan mi devi scrivere il papello di commento se no non si va a casa adesso adesso lo scrivi io tenete a mente che Negan deve scrivere ok? grazie se le premesse sono le ombre ok non ricordo che scegli prima di partire quali armi oggetti portare con il rischio però di perdere tutto ok era meglio fatto Resident Evil 2 buonasera capitano ciao operatore ciao carissimo una domanda se mi puoi aiutare vorrei fare l'abbonamento prime al cavale ma come abbonamento mi apparezzerà l'opzione a pagamento come mai? devi cliccare la spunta c'è sotto una piccola spuntina con altri metodi di pagamento oppure c'è tipo pagamento con prime sotto c'è grazie ovviamente per il supporto apprezzatissimo anche se non riesciva benissimo grazie mille per il supporto davvero gentilissimo ok ripartiamo ripartiamo questa era Resurgence comunque se punti al mobile dovresti anche tenere presente cosa l'utenza mobile vuole cioè deve esserci la grafica cool qui ecco siamo su Rainbow Six anche sul discorso di Rainbow Six io stenderei un velo pietoso allora che Rainbow Six Siege sia ormai l'icona dello shooter competitivo tattico lo sappiamo da anni è un brand sicuramente interessante Extraction ha voluto dare una svolta qui come sempre manca l'ombra io non riesco madonna ste cose sembrano in green screen degli anni 80 ci sono ci sono sicuramente tentativi di portare Rainbow Six Siege su altre strade ed esce Rainbow Six Mobile adesso io adesso davvero io non è che ce l'ho con i giocatori mobile assolutamente io sono entrato nel mondo mobile con il battesimo del fuoco che fu Diablo Immortal cioè avevo giocato già altri giochi in precedenza chiaramente ma non in maniera così hardcore giocare su Diablo Immortal è stato a prescindere delle meccaniche a prescindere di tutte cose che mi hanno reso abbastanza così titubante a poter rientrare in un mondo di giochi mobile free to play con lo stampo blizzard appiccicato sopra ma comunque mi ha fatto capire mi ha fatto vedere il mondo del gaming da un'altra prospettiva come dico sempre sapete che io mi ritengo parte dell'1% cioè dove fondamentalmente siamo dei giocatori di vecchia data per noi ancora c'è il gioco console che deve essere prendi vai e deve essere godibile per il prezzo che ha c'è il mondo dei giochi pc quindi strategici mmo eccetera eccetera che sono tutta un'altra cosa il gioco mobile deve essere fresco deve essere interessante grippante che ti dà grip portare rainbow six su mobile significa aver finito i colpi su rainbow six sanno che non possono far saltare per aria siege da un punto di vista console e pc perché è ancora giocatissimo come giustamente è giusto come è giusto che sia rainbow six extraction che era la deriva pwe è uscito molto interessante dal punto di vista delle meccaniche ma curato poco male curato male e adesso prodotto mobile io mi aspetto che visto che questa si tratta di una trasposizione di rainbow six dove il gameplay è già dato per assodato e quindi debba esserci solo un'ottimizzazione da un punto di vista di architettura ecco poi parliamo di questa roba madonna dicevo un punto di vista di architettura debba essere ottimizzato per girare su cellulari quindi non sulle console di nuova o vecchia generazione o quello che è però ecco rainbow six extraction puoi dire tranquillamente mal cagato direi proprio di sì è imbarazzante che non ci siano brand nuovi o almeno un accenno a qualcosa che non sia roba già vista ormai è meglio giocare a giochi indie carl everance ti voglio tanto bene io mi sto divertendo un sacco con dei giochi indie o doppia o cioè non tripla a e non delle solite software house publisher che macinano sempre gli stessi brand mi diverto tantissimo grazie al game pass anche questa cosa e sono convinto che appunto the division scusate rainbow six in questo momento benché sia giocato e tutto il resto non sia proprio una sicurezza e portarlo sul mercato mobile lo vedo un po' come l'ultima spiaggia per cercare di sedurre nuovi giocatori e poi magari portarli sulle piattaforme quindi su console su pc oppure su ubisoft plus tramite stadia tramite netflix che vedremo appunto fra poco perché qui incominciano anche determinati tipi di accordi che potremmo vedere in futuro dei quali potremmo temere in futuro come diceva il buon filippone nei giorni dell'acquisizione di activision blizzard quando sony si sincerò di dire immediatamente o mi raccomando gli accordi vanno onorati e phil spencer disse che i nemici non sono sony e nintendo perché sono collaborano da vent'anni nell'industry quindi sono rivali da vent'anni ma anche colleghi problema sono le nuove leve che vogliono entrare nel mondo del gaming quindi amazon netflix e facebook e qui quando incomincio a vedere ubisoft che va a fare la partnership con netflix io un po' comincio ad avere paura qualcuno ha detto metal singer si io ok ok abbiamo qualcosa un very special guest vedete questo bellomino io adesso non ricordo il suo nome mike verdu ok indovina indovinello sono in partnership con ubisoft per quanto riguarda il mercato mobile quindi non uno non due ma tre giochi dei franchise più amati di ubisoft io porca quando ho letto sta cosa ti giuro allora se qualcuno aveva la finestra aperta mike verdura la versione grassa di bonolis non credo allora vedete che cosa c'è scritto vedete il primo gioco è valiant hearts 2 di tutte le piattaforme di tutte le piattaforme che ci sono metti su mobile un gioco che è una gemma come valiant hearts cioè valiant hearts insieme a child of light sono due dei miei titoli minori di ubisoft preferiti di tutti i tempi di tutti i tempi e tu me lo metti su mobile solo per i clienti netflix cioè ma che state a fa infatti arriverà a gennaio del 2023 poi mighty quest arriva sempre sul 2023 e ultimo ma non per importanza il nuovo assassin's creed che sarà tramite ci sarà anche una live action eccetera eccetera e quindi guarda guarda cosa dice guarda guarda aspetta eh fermo l'immagine e guardate la faccia guarda the games will be ads free with no in-app purchases devi solo abbonarti a netflix che ridere ecco bravo scap quando ho detto quando ha detto valiant hearts 2 ho bestemmiato ecco infatti ho detto se qualcuno aveva la finestra aperta ieri sera molto probabilmente mi ha sentito un urlo di dolore in lontananza nella zona di bergamo ero io ero io mi cospargo il capo di cenere ma non conosco il gioco male 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 recupera lì child of light e valiant hearts molto belli purtroppo non sono su game pass ecco li troverete sull'app di netflix guardiamo in avanti bla 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 per sedurre i nuovi fan perché anche noi siamo dei nuovi fan ti piace wow ubisoft e netflix ma chi l'avrebbe mai detto wow yeah ma che mamma mia che tristezza infinita sta cosa ecco ovviamente il co-creator di mythic bene perfetto grazie è la serie per te amico mamma mia advertising allucinante making a MMORPG fake game produced by a real gaming corporation cioè mamma mia festival del cringe ok perfetto guardatelo su apple tv va benissimo qui adesso il passaggino su titan quest perfetto la serie va bene grazie mille non ce ne frega niente grazie noi saremo qui per i videogiochi grazie il resto non ce ne frega assolutamente nulla alcune scenette sembravano anche divertenti ma se questo dovesse essere un tentativo per indurmi ad acquistare l'abbonamento di netflix che comunque in questo momento sto scroccando grazie mille a chi a chi di dovere chi lo sa visto che è in chat lo sa ecco ok possiamo andare avanti non avrete i miei soldi grazie eccoci adesso trailerino dove facciamo vedere tutte cose tutti i nostri brand tutto super figo stiamo arrivando all'apice guarda che c'è far cry oh bello vai avanti tutto perfetto qui giochi board game quindi uno monopoli eccetera eccetera qui si era visto un watchdogs lì così ma ovviamente di watchdogs non c'è traccia skull and bones available all day one qui adesso parte il super promotion su ubisoft plus che è gratis per coloro che non si sono mai abbonati bla 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 per gratuitamente fino al 10 di ottobre almeno aspetta ok no richiede però un metodo di pagamento no c'è scritto for new subscribers only ecco appunto chi si è già abbonato precedentemente mese gratis saluti netflix è un furto legalizzato benissimo ok ecco arriverà il nuovo trackmania che per quanto io gradisca il brand di trackmania non mi sembra che sia proprio allora parliamo chiaramente di corse automobilistiche parliamo di tamarragine ok dai italia ok perfetto quindi percorsi assurdi super veloce super fast super quick bello free to play molto bene quindi welcome to the club il club degli sciopponi eccolo là perfetto qui cos'è che presentava adesso non ricordo neanche best angelo si è unito al disagio ciao 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 best angelo benvenuto a bordo intanto leggo la chat comunque se ieri sera avessero presentato elden ring the last of us 2 forza orison forza 8 halo per la prima volta sarebbe comunque apparso noioso con quei personaggi improponibili sì gli announcer sono abbastanza molli ok free to play anche track sì sì anche lasciamo stare il discorso dei servizi in pagamento alexrage23 sei abbonato grazie mille per il supporto alexrage grazie mille carissimo anche trackmania su console è stata una bella sorpresa sì però gli hanno dato 3 secondi 3 sai a me che me frega della serie su apple tv sai a me che me frega dell'ennesima carrellata dove fai vedere trailer cgi a destra a sinistra fammi vedere i giochi i giochi i giochi io mi sto triggerando un sacco con ste robe ecco rocksmith oh guarda qui c'era rocksmith wow che bello 2014 sei pronto ad imparare introduciamo rocksmith now live che cos'è sostanzialmente impari a suonare quindi come ci sono altri tonnellate di servizi in abbonamento però ti insegna a suonare uno strumento vero cioè ci sono già dei servizi che fanno queste cose quindi delle dei tutorial per imparare a suonare uno strumento musicale dove puoi attaccare con il jack il telefonino alla tua chitarra l'amplificatore insomma la chitarra acustica quello che è al basso e lui ti dice se stai facendo giusto stop quindi ti insegna a suonare ecco salutiamo musician ecco non mi ricordavo il nome però vabbè in sostanza quella roba là è tristissimo perché hanno usato il brand di rocksmith per fare sostanzialmente la stessa cosa di musician solo con l'interfaccia di rocksmith ma in realtà non è un videogioco è un corso per imparare a suonare uno strumento quindi sfruttiamo il brand che comunque è buono no perfetto posto così avanti che bello quando si usano le IP per delle cose nobili cavoli ce ne vorrebbero guarda ecco io quando ho visto scusate tolgo un attimo l'audio del sottofondo chill siamo beccati 200 cira di carl everance grazie mille grazie mille ragazzo ecco voglio mettere in audio questa roba scusate lo metto a velocità normale perché quando l'ho vista non volevo crederci io non dico che si debba essere seriosi guardate la faccia scusa ingrandisco guardate la faccia dell'annunciatrice che sembra sprizzare cringe da ogni poro poretta anche lei sta creatura allora scusate torno indietro qualche secondo ok devi ok il rock smith plus è il tool perfetto per farmi iniziare nella carriera di chitarrista beh se devi imparare a suonare la chitarra non si sa per quale motivo devi anche fare pratica con il balletto con le tue mosse di danza i tuoi passi di danza non si sa per quale motivo io ho suonato per vent'anni non ho mai visto un chitarrista ballare in generale attenzione però la puissance 2580 buonsoir la puissance benvenue è l'unica cosa che so in francese spero di aver fatto un figurone johnp87 buonasera caso sai qualcosa ubisoft plus xbox deve arrivare non è ancora stato annunciato ufficialmente il fatto che da ieri è aperto il preorder per un gioco del quale non è stato mostrato neanche un secondo di gameplay assassin's creed si dopo lo vediamo almeno io di assassin's kid mirage non ho visto niente tranne cgi non c'è niente oltre alla cgi quindi hai visto benissimo caro mastro minchius se ti fai di acidi si benissimo attenzione il lancio più pessimo della storia del gaming credo che è lui che ci crede tantissimo la tua carriera è finita amico possiamo tornare alla musica chill perché davvero dovevo farvi sentire il era madonna mia davvero f in chat per la tristezza perfetto sai quanto l'avrà provata non lo so diventerà un meme sicuro assolutamente sì mamma mia comunque non mi appare la spunta del prime da nessuna parte operatore mi dispiace mi dispiace mi dispiace comunque dovrebbe esserci sotto comunque nella chat dovrebbe esserci torniamo alla versione ok vabbè lasciamo questa con la chat tanto ormai è accringiata verrà accringiata a sto punto ok scusate devo togliere l'audio perché parte just dance finalmente qualcosa di bello su just dance ci voleva perché dal 2013 in avanti sostanzialmente just dance è fifa dove vengono cambiate le rose ogni anno just dance è la stessa cosa dove si cambiano le canzoni e il gioco è identico perfetto pareva carton del principe di velera Alex Rage non mi toccare la carton dance perché potrei triggerarmi io te lo dico potrei triggerarmi stai attento a quello che dici massimo rispetto per carton il cui balletto era stato inserito anche in doom 2016 pochissimi sanno questa cosa ok qui ovviamente abbiamo chiuso la musica perché ci sono è tutta musica chiaramente copyright strikeabile anche se vabbè ecco vedete che parte il balletto ve lo evito just dance è just dance ogni anno è sempre la stessa cosa sei giocatori qui parlano di just dance e dici oh finalmente siamo pronti per la nuova esperienza di just dance dove ci sono il sistema di valutazione con le playlist tutte cose bellissimo siete bravissimi siete fantastici molto bene però anche basta grazie perché davvero io non capisco perché si debba far uscire un titolo a prezzo pieno ogni anno se non per grabbare più denaro possibile davvero si uscirà su xbox e ubisoft plus non nell'abbonamento del game pass non fateci conto su questa cosa non fateci conto perché molti mi hanno già detto eh ma magari col prime scusate col prime con game pass ultimate fanno come gli up play non non metteteci la mano sul fuoco ok questa presentazione di just dance è durata tipo il triplo di quella di skull and bones ecco qui non pago della ecco non pago della figuraccia di prima stava ancora ballando perfetto perfetto il cringe è fortissimo è over 9000 in questo momento ecco arriva dopo il cringe di just dance parlando di cose vecchie e di cose superfluie ecco a voi Yves Guillemot ovvero il CEO di ubisoft che è impegnatissimo a fare questi fantastici messaggi dove si vedono bene le mani perché è importante nel marketing mostrare l'importanza della gestualità tacci de pippo poi mi dicono che non devono non devo non devo triggerarmi dopo gli accordi con Netflix la questione ubisoft plus in stile iplay è stata disintegrata decisamente pensavo amplifon ecco parlando di passione per il nostro gioco stiamo celebrando il quindicesimo anniversario di assassin's creed ecco bellissimo sei stato bravissimo però basta basta davvero poi un teatrino patetico con un impiegato per andare a parlare degli ultimi ritrovati degli ultimi inserimenti ecco parte la musichetta di assassin's creed qua vediamo altair qui vediamo edward di black flag qua vediamo sono tutti italiani in ubisoft ma che sta a fare quando è sceso dalle scale ho pensato davvero alla pubblicità di amplifon io pensavo al montascale stanna che salutiamo forse l'età mi ha invogliato più a credere al montascale scusate ma il fatto che da ieri è aperto il preorder per un giorno sì 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 ti ho visto ti ho visto ma ti avevo già risposto prima ma strominchius ma ti ripetelo te lo rivediamo ce lo rivediamo ce lo ok è stato parlato di assassin's creed miseria mi viene matrix ma non è matrix insomma lab dove tutti gli assassin's creed convoglieranno non faranno tutte cose ah ti eri assentato è certo che però mi evidenzi il messaggio quando io ti rispondo non sei stato non sei stato carino ecco face the invisible qua tutte cose trailer altisonanti la bella carrellata di tutti i personaggi benvenuti al più grande playground forever leap into history ecco il leap of faith ed eccoci qua l'assassin's creed quindicesimo anniversario join the celebration prova gratis con ubisoft prova prova allora se morandi fosse il CEO di ubisoft tornerebbe all'apici del successo con le manazze formato gigante può essere anche questi due presentatori che avevamo trovato all'inizio della ubisoft forward sono di una tristezza in vereconda si parla del quindicesimo anniversario qui fanno tutta la carrellata della storia davvero mamma mia la noia la noia io capisco che sia l'anniversario bella l'autocelebrazione ma dite qualcosa non hanno detto una mazza una mazza ok questo mi sembra che fosse qui la partenza ok era già al doppio no non era al doppio lo velocizziamo un attimo ok perfetto ubisoft original classico trailer in cgi siamo all'interno di un mondo arabeggiante è inutile che mi soffermi a vedere i dettagli della cgi perché qua sono tutti campioni poi bisogna vedere poi il gameplay ok sei pronto a fare parte della schiera dei ma si sono pronto dai oh upesh ali un mercato perfetto qua saltano tutte cose parkour bruttissimo doppio pugnale e arriva un assassino vero guarda mo come se fa impara na bo assata ecco ti parte il fight pugnalate salti acrobazie tutti che si rincorrono e adesso assata ed ecco fatto che famo taglia udite taglia udite taglia udite ecco fatto vola l'aquila felice arriva il solito caporalotto imbruttito si vede una mano manca manco di un dito manchevole di un dito partono dei fumogeni che curva sud spostati proprio in seguimento locambolesco qui dove aveva fallito il parkour si arrampica agile come un capriolo del trentino va lancia la bomba infuocata missandola clamorosamente arriva il cattivone lui scende e grezzissimo gli fa totò ecco gli ruba la maschera dodgia la sabbia negli occhi amico mio sblat assassin's creed mirage viene depositata una piuma ed ecco che compare misteriosamente uno spettro ragazzi questo è tutto ciò che è stato mostrato di assassin's creed che la gente strippa da anni dal 2020 perché c'è chi giustamente valala non è piaciuto perché la storia degli assassini eccetera eccetera è un discorso più lore based io non sono un grandissimo fan della lore di assassin's creed però ci può stare io ascolto tutte le motivazioni vostre della community ma è inaccettabile dopo due anni il team di assassin's creed è gigante dopo due anni un trailer in cgi di quattro minuti e non c'è un nanosecondo un nanosecondo di gameplay un nanosecondo che poi sarà sempre basato sullo stesso motore qui intervistano l'attrice che ha preso il golden globe per non mi ricordo che cavolo ah no questa era la narrative director era l'altra quella col vocione è tutto sensuale molto da fame fatale qui praticamente davvero lì sì lui è Basim sì va benissimo andiamo avanti un sacco di dettagli molto interessanti sì ma facci vedere qualcosa che non sia un trailer in cgi una voce molto riconoscibile quella della doppiatrice ha un messaggio molto speciale per noi perfetto è Sean Rash quella là ha doppiato sostanzialmente all'interno del gioco ha prestato la sua voce all'interno del gioco benissimo vi auguro un felice quindicesimo anniversario che voce incantevole e basta e qui lui è Bazinga non si sa cioè e qui un altro highlight di tutta la serie ma miseria ma fammi vedere qualcosa di Mirage no no niente no no non te lo meriti non ve lo meritate non ve lo meritate un bel Ubisoft Forward dove i titoli di punta non sono stati scusate il francese non li hanno cagati nessuno li ha cagati sti trailer ma che me frega dei trailer in CGI che me frega la gente non abita più nelle case dei soborghi senza internet che gli fai vedere un artwork disegnato da un illustratore uno dice oh fighissimo chissà il gioco com'è basta basta fateci vedere sti gameplay no tutto CGI tutto CGI neanche un secondo di gameplay tacci vostra riguardo un attimo la chat perché mi è venuta la vena grossa qui in questo momento non tollero più i trailer in CGI mi stanno venendo l'allergia davanti c'è Mastrota che suggerisce mi ero assentato prima del primo messaggio ok non hanno detto una mazza perché hanno pensato che piazzarsi in mezzo a un deserto senza ombra fosse abbastanza è vero Erichidido molto probabile era già cool abbastanza così dei giochi chi se ne frega quello era il pentolame che si usa per le castagne in inverno benissimo non hanno bisogno di altro perfetto vado a comprarmi 4 copie di Mirage e torno dice Buddy mi sembra più che giusto Buddy grazie per il tuo supporto hanno messo Diablo in offerta vale la pena prenderlo aspetto questa fantomatica acquisizione che non verrà prima di 2-3 anni no l'acquisizione dovrebbe completarsi entro l'anno fiscale 2023 dalle previsioni di Microsoft se stai parlando di Diablo 3 ed è in offerta non so qual è l'offerta anzi se mi iscrivi qua sotto ulteriori dettagli ti dico se vale la pena o no 20.000 dipendenti non riescono a fare un videogame trailer no non ce la fanno non ce la fanno però hanno fatto un collage fighissimo di cosplayer di eventi Ubisoft e di gameplay di altri altri ovviamente giochi grazie per i 15 anni incredibili insieme oh so many memories tra l'altro cioè no scusate io davvero perché devo cringiare fortissimo su ste robe cioè io capisco perché è difficile trovare della gente anche non per forza deve esserci Luca Ward a presentare un gioco ok in termini di voce di impostazione eccetera eccetera ma vogliamo prendere qualcuno di carismatico più di lui che entusiasmo guarda la faccia dell'entusiasmo di uno che vuole tornare a giocare a tutta la serie di Assassin's Creed guarda l'odio nei suoi occhi perfetto il trasporto di un vero gamer di un vero fan del brand sei il numero uno partendo dal fondo però amico mio ok proseguiamo con questo con questa cringiata fotonica qui siamo nuovamente a parlare di Assassin's Creed qui hanno mostrato ecco qui c'era la solita turbo sbrodolata sì il documentario eccetera eccetera qui tante belle chiacchiere hanno annunciato anche Assassin's Creed Jade ecco questo è Assassin's Creed Red ok quello nuovo che dovrebbe no questa Symphonic Adventure dove era qua Assassin's Creed Red che era stato mostrato un nanosecondo con un un altro trailerino insignificante ecco ecco what's up Shinobi what's up Assassin's Creed codename Red perfetto questo è tutto quello che sappiamo del nuovo perfetto molto bello bellissimo guarda che roba la community fan wow a zappare la pietra davvero in Siberia dissodare i campi in Siberia questa gente ma davvero però io ragazzi l'ho trovato un cringe fest incredibile cioè questo è tutto quello che c'è un live action con i tetti delle pagode e arriva un ninja what a esatto davvero basta 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 stanno mungendo un cadavere ormai basta basta e poi ecco hanno annunciato aspetta dove era il pezzettino che faceva vedere tutte cose era qui se non erro vediamo ok ecco lo showcase è l'ultimo capitolo di Assassin's Creed Valhalla 2022 2023 per Assassin's Creed Mirage che è il nuovo titolo prossimamente Assassin's Creed codename Red codename X che non lo vedete adesso riprendo la chat da questa parte in modo che si veda che è un altro codename basato sulla mitologia delle sulla il folklore sassone delle streghe ne parlavamo con i ragazzi in community buonasera ciao Enrico ciao ciao Enrico delle streghe della Germania perché X vuol dire tipo strega in sassone ora non ricordo in quale lingua particolare o forse anche in tedesco non lo so ma comunque in qualsiasi caso sarà un altro di quei progetti che arriverà nel 2013 e niente quindi hanno ecco che fanno parte infiniti perfetto codename Jade e la partnership con Netflix molto bene perfetto quindi hanno annunciato 7 Assassin's Creed 1 2 3 4 5 6 e il ecco la partnership perfetto questo è quanto di gameplay abbiamo visto 0 mi sembra giusto perfetto ciao polemico si chiama Mirage per quello acquisti solo dopo un'insolazione può essere Alex Rage è una saga che hanno rovinato da una lotta tra templari assassini per il libero arbitrio è diventato un gioco con semi eroi che combattono gli dei che cavolata Altair torna e te e se l'allero Altair ormai è andato X quindi sarà più o meno ripreso da alcuni combattimenti miniboss che ci sono in Valhalla il legno del logo sembra quello non lo so non lo so non ne ho idea non ho informazioni in merito quindi non voglio dire una fregnaccia comunque sia comunque sia qui l'Ubisoft war war poi si chiude un'altra volta con un altro showcase dove non viene mostrato assolutamente nulla quindi benissimo così mi sembra che contenutisticamente sia stato particolarmente ricco abbiamo visto cose molto interessanti nuove fresche peccato che siamo nel mondo all'incontrario e quindi non abbiamo visto assolutamente nulla io fortunatamente ecco ecco hanno dedicato tre decimi di secondo al brand di anno che è uno dei miei brand preferiti facessero magari un po' più attenzione a tutto questo solo che anno devi giocarlo su pc quantomeno quindi non è molto adatto al mobile potrebbero farci anno mobile attenzione proporrò a Ubisoft una percentuale su anno mobile settembre spento per quanto riguarda game pass ma non eccessivamente spento anzi secondo me no secondo me non eccessivamente spento arriverà probabilmente l'infornata finale vedremo se effettivamente fra tre giorni mercoledì Deathloop verrà presentato ci sono due eventi possibili l'idea txbox dove non credo verrà annunciato nulla perché è solitamente dedicato ai titoli indipendenti mentre il il giorno 15 c'è il tokyo game show quindi il tokyo game show potrebbe essere una platea più interessante per annunciare Deathloop se mai fosse confermata l'ipotesi dell'anno dei 12 mesi di esclusività di sony potrebbe essere non sono più riuscito a far partire quel treno no e poi non sono più riuscito a metterci le mani sopra perché mi è arrivato il pc nuovo durante il fine settimana ho dovuto ricaricare tutto sul pc nuovo riconfigurare tutto registrare il video della domenica quindi sono stato tiratissimo ma ce la farò arriverà il gameplay sul secondo canale su un walker gaming promesso vi farò vedere un video di 30 secondi dove parte il treno e io che esulto e lancio un paio di mutande potrebbe essere questa è la vera domanda The Darkness siete delle bruttissime persone comunque sappiatelo ok per quanto riguarda le uscite di Game Pass di questo mese in arrivo perché ok questa è la situazione scusate ve la sovrappongo alle hop eccola qui voi non vedete una cippa giustamente eccola qui così si vede meglio questo è il mio calendario potete andare su bit.ly slash rune calendario ve lo lascio qui bit.ly slash rune ho messo il nome corto l'ho fatto l'ho fatto ok dove ci sono segnati anche gli eventi e i vari showcase potete vederli comodamente questo mese oltre all'infornata che abbiamo ricevuto adesso il 27 ci sarà Grounded e Moonscars Esce Slime Rancher 2 giovedì 22 che è comunque un ottimo titolo attesissimo Hard Space Shipbreaker che era già presente su Game Pass PC che aveva un sistema di controllo su PC che faceva venire la labirintite non ve lo consiglio comunque Grounded Moonscars Slime Rancher 3 già solo con questi tre secondo me è un mese più che ottimo secondo me più che ottimo nel senso che se non dovesse uscire Deathloop chiaramente se poi esce Deathloop Settembre è uscita comunque della buona roba dopo non si può mai entrare nei gusti di tutti non si può neanche avere un AAA ogni mese un first party ogni mese non ancora se mai si finalizzerà l'acquisizione di Activision Blizzard nel 2023 tardo 2023 potremmo vedere un ritmo di uscite uno ogni due mesi un first party ogni due mesi mi chiuderò malissimo in Metal Hell Singer bravissimo Carl Everhan sa anche il sottoscritto da qualche giorno sulla pagina ufficiale di Xbox YouTube gira un video su Biomutant forse verrà inserito sul pass questo mese no non credo credo sia più per la versione dell'update per le console di nuova generazione serie X e serie S quindi l'upgrade next gen non credo sia nei termini di un di un di un di un uscita su Game Pass almeno io non ho non sentivo non ho sentito di rumor in merito i rumor solitamente li tengo per me e solo quelli che possono essere favorevoli all'utenza come ho condiviso un paio di settimane fa quello di Assassin's Creed Odyssey che era stato riccato era stato rumoreggiato da The Snitcher un un noto insider che ci prende spesso e volentieri c'era questo rumor che arrivasse su Xbox perché c'era l'immagine di Phil Spencer con un gufo la bandiera della Grecia il pugnale e un ninja quindi probabilmente lo vedremo arrivare nella seconda metà dei titoli di settembre del Game Pass anche perché questo mese di Ubisoft non è arrivato nulla se non ricordo male sto guardando adesso il calendario no quindi può essere che arrivi Assassin's Creed Odyssey per quanto possa piacere o non piacere comunque potrebbe arrivare se dovesse arrivare anche Deathloop dubito che ci sarebbe comunque spazio per un Biomutant quindi poi esce Grounded che già è un ottimo titolo secondo me se non l'avete mai giocato prendete un amico oppure entrate sulla community di Discord e dategli un'occhiata Metal e Rising Metal Helsinger sì sarà giocabile in Cloud che domandone che domandone che mi triggeri con le domande qui non ci siamo non ci siamo mi hai colto in castagna non voglio dire una stupidaggine quindi vado testè a controllare nel metodo più veloce e rapido possibile per ottenere delle informazioni in merito al Game Pass ovvero la app del Game Pass no dice Nico Feider anch'io ricordo che non fosse mi ricordo fosse per le series e basta Metal Helsinger no è solo per console infatti solo per console serie X e serie S eccoti qua lo screenshot non so se si vede comunque c'è scritto solo per console quindi mi dispiace niente Cloud ok dunque c'era ancora qualcosa di cui parlare ah sì di Hogwarts Legacy che mi avete chiesto Hogwarts Legacy doveva uscire nel periodo delle holidays e non è uscito è stato rinviato a early 2023 sono abbastanza convinto che il titolo abbia dell'ottimo potenziale dipende cosa è stato sviluppato perché più ci addentriamo nei dettagli più i veri fan della saga di Harry Potter vedono aumentare il numero di dettagli che mancano e manca il Quidditch è già lì in molti vabbè dicono vabbè chissà cos'è dipende dalle battaglie come sono fatte il sistema di combattimento ci sono tanti ancora piccoli particolari che vanno visti e non vorrei che fosse una grandissima operazione cash grab non credo perché dal gameplay che era stato mostrato che era in engine perché girava su Playstation 5 sembrava più che godibile e fluido non sembrava una cosa estremamente artificiosa fin quando non c'è una demo una prova io ultimamente sono molto diffidente dai preorder in generale poi comunque vi invito sempre a evitare i preorder di ogni forma e dimensione se non siete dei collezionisti che vanno ad acquistare la collector o siete dei feticisti per l'edizione fisica che ultimamente non vanno per la maggiore le vendite in formato fisico quindi lì potrebbe aver senso fare un preorder se siete interessati al gioco non precipitatevi al day one perché l'effetto cyberpunk ci ha insegnato tante cose i primi che arrivavano io conosco gente che era tornata indietro da GameStop con era a GameStop a pagare la copia di cyberpunk e non l'ha ritirata ok perché erano già uscite le prime recensioni a copia fisica se è un collezionista allora un altro discorso allora un altro discorso allora ha un senso fare un preorder per paura di non poterlo trovare di non riuscire a recuperarlo al day one allora è una è una giusta preoccupazione però diciamo come regola massima per tutti gli altri io evito generalmente secondo me non si non si aspettavano così tanto hype per questo hanno rimandato l'uscita non credo a Carl Everans perché l'hype su un brand nuovo magari può essere giustificato cioè può essere ingiustificato dici vabbè è una nuova ip che non so faccio ad esempio cult of the lamb ok cult of the lamb è stato ha raggiunto un milione di giocatori è un titolo indipendente fatto da pochissime persone pubblicato da devolver digital che per il suo comparto molto carino il gameplay un po' roguelike un po' hack and slash ha sedotto moltissime persone tra cui anche il sottoscritto allora lì l'hype che saliva alle stelle poteva generare un rinvio un brand come quello di Harry Potter se non ti aspetti un'ondata di giocatori che arrivino ad acquistare il tuo prodotto in massa non stai facendo proprio un lavoro grandissimo dal punto di vista del marketing quindi penso sapessero della mole di giocatori interessata non lo so poi la la solita scusa del polishing ormai sta incominciando a diventare un po' polverosa eh no lo stiamo rifinendo bene sì ma stiamo facendo questo sì ma dobbiamo finire quell'altro e adesso la gente avete visto su Ion Life ne parlavo proprio oggi sul video di domenica siccome a ottobre esce Modern Warfare 2 non si esce a ottobre a novembre esce God of War quindi non si esce neanche a novembre e si sono presi dicembre adesso anche le software house giocano così prima era uscita testa a testa al lancio chi vende di più chi si ruba i clienti da una parte o dall'altra adesso pochissimi fanno così buonasera ok ciao benvenuto buon proseguimento ciuma scendo in cripta grazie per la bella serata grazie a te Alessio ciao ci vediamo prestissimo spero ci vediamo martedì la prossima live ovviamente io passerei a questo punto se non ci sono ovviamente fatemi le vostre domande chiedetemi ecco dite fate pensate scrivete adesso ci rilassiamo un po' negli ultimi due anni sono cambiate tante cose il lancio dei giochi mette tanta paura non è più credo il lancio dei giochi in sé sai Diego mi sembra che moltissimi abbiano preso la strizza dei review bomb in generale non so se avete saputo ma tipo Halo Infinite è stato review bombato dopo il mio video di dopo il mio video di polemica di domenica sempre polemica di settimana scorsa chiaramente non generato dal mio video perché non sono così importante Halo Infinite è stato review bombato pesantissimamente su Metacritic quando ci sono queste cose nonostante il review bombing sia un metodo fra virgolette non ortodosso di comunicare il proprio disappunto perché poi anche chi va a vedere il voto a posteriori si trova una valutazione che non risponde non corrisponde allo stato attuale del prodotto è un chiaro sintomo di malessere di dissenso da parte della fanbase che prelancio può essere una cosa stupida dire vado a review bombare questo prodotto perché non sarà localizzato in italiano non avrà quel contenuto che ci avevano detto non uscirà quando ce l'avevano detto allora lì è sbagliato da un punto di vista etico review bombare un prodotto perché non è come vuoi tu ok prima dell'uscita perché possono esserci una serie di motivazioni così postumo è un chiaro segno che l'utenza si sta rompendo le scatole di 343 e già in moltissimi incominciano a odorare l'odore di bruciato sulle chiappe di Staden che sostanzialmente è il lead designer il team leader di 343 che doveva un po' risollevare le sorti del brand dopo Halo 5 e che non sembra non sembra essere ben voluto non si sa se non è stato messo in condizione di lavorare come si deve non si sa se 343 ha dei problemi al suo interno non si sa comunque è stato review bombato molto violentemente Halo Infinite adesso non non sono il tipo che va su Metacritic perché non me ne frega sostanzialmente nulla però non voglio dirvi una fregnaccia ecco Halo Infinite ora su Xbox Serie X sta a 87 magari ha cancellato il review bong sì l'hanno pulito però era era stato brutalizzato ultimamente sì ah qui incominciano marzo 2022 aprile 2022 marzo 2022 gennaio no allora l'hanno pulito sì 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 l'hanno pulito perché avevo visto tipo quattro giorni fa avevo visto che era tipo a 5 era crollato verticalmente quindi ok ragazzi diamoci un attimo da fare con un po' di gaming intanto ci rassegniamo leggo ovviamente tutta la chat ponetemi tutte le domande che volete ci mancherebbe altro continuiamo con il relax di Disney Dreamlight Valley che mi fa sempre molto piacere ok intanto dovrebbe ok perfetto continuiamo la partita penso che gli sviluppatori hanno semplicemente deciso di farlo su next sì 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 è il singer sì ecco anche il discorso delle nuove console delle console di nuova generazione della generazione corrente ecco io mi dimentico sempre di cambiare il nome quindi adesso mettiamo Disney Dreamlight Valley anzi 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 faccio decidere a voi faccio decidere a voi stavo pensando potremmo anche andare avanti su Immortals sarebbe bello fare Sea of Thieves in questo momento credo sia veramente molto difficile se vogliamo fare una mezz'oretta un tre quarti d'ora va benissimo perché poi tutto il video che sentite in questo momento verrà tagliato e inserito sui vari canali quindi in questo momento è chiaramente in sostanza